Un bilancio di fine legislatura, così Giuseppe Cangemi definisce la manovra approvata dall'Aula a fine 2016. Approvata a fine 2016 la manovra di bilancio della Regione Lazio, una manovra che poco è piaciuta alle opposizioni, anche se è grazie al loro lavoro che alla fine è passata, una proroga del piano casa, anche se questa manovra è stata definita da alcuni consiglieri di opposizione, quasi un decreto mille proroghe. Sì, c'è dentro un po' di tutto, forse anche una manovra elettorale, però comunque l'opposizione compatta, tolti chiaramente i consiglieri dei Cinque Stelle, hanno ottenuto dei risultati. Uno su tutti è la proroga del piano casa, che era una nostra battaglia politica che partiva dalla giunta Polverini, una proroga di pochi mesi, cinque mesi, ma comunque qualcosa per rimuovere anche un po' l'attività locale nei territori. Intanto è stata finalmente presentata una bozza delle prime linee di quello che sarà il piano rifiuti regionali, un altro grande assente in questa legislatura, nonostante le promesse. Alcuni punti sono stati approvati anche dalle opposizioni, come lo smaltimento dell'amianto, ad esempio, ci sono delle basi buone per ripartire oppure ci sarà tanta tanta opposizione? Ci sarà tanta opposizione perché è un progetto poco chiaro, è un progetto politico che manca di alcuni aspetti, non c'è programmazione, c'è tanta confusione e non c'è la volontà di affrontare problemi. Noi precedentemente l'abbiamo fatto, chiaramente assumendoci anche la responsabilità di un lavoro complesso, di una materia complessa, ma su tutti i grossi problemi Zingaretti è assente. E questo dei rifiuti, affrontarlo a pochi mesi dalla fine della legislatura, è un po' una presa in giro. Un'ultima battuta sull'Ater, tante le polemiche sulla conferma della nuova direzione, se così si può dire, ricordando che comunque si parla di commissariamento, e molte le critiche sugli emolumenti invece? No, le critiche sono su tutto il sistema delle partecipate della regione, delle società in house, delle nomine fatte, perché Zingaretti ha commissariato o niente, e quindi non ci sta un controllo da parte dell'opposizione. Lui ha commissariato tutto, dagli enti parco alle Ater, alle Ipab, non ci sta un ente, alle grandi aziende, penso all'Arsia, penso al Codra, non ci sta un'azienda che ha un confronto con l'opposizione. L'opposizione non sa cosa succede nelle aziende, non solo nell'Ater. Quindi praticamente la cosa vergognosa è che lui ha commissariato la regione Lazio con i suoi uomini, che se si vede tra le nomine sono quasi tutti quanti ex esponenti del PD o trombati del PD.